Dopo i 45 anni mantieni il metabolismo veloce così. Il metabolismo, superata la boa dei 45 anni, può rallentare, in quanto è tutto il corpo a rallentare, ma anche perché la massa muscolare va incontro a una riduzione fisiologica. Come conseguenza dei cambiamenti ormonali la massa magra si riduce e di riflesso aumenta quella grassa. L'aumento della massa grassa a sfavore della massa magra è uno dei principali fattori che rallentano il metabolismo basale e quindi anche il fabbisogno calorico. Il metabolismo basale corrisponde alla quantità di energie che il nostro corpo richiede in condizioni di riposo e digiuno per svolgere le normali funzioni fisiologiche, respirazione, pulsazioni cardiache ecc. Questo fa sì che anche la quantità di calorie smaltite diminuisca, per questo, è più facile ingrassare e si fa più fatica a dimagrire, anche quando non si eccede col cibo. Riduci le calorie ma evita le diete drastiche, un'importante restrizione calorica dovuta a diete severe o al fatto di saltare i pasti o di togliere completamente alcuni macronutrienti come i carboidrati, può abbassare il metabolismo basale. Proteine e grassi, buoni, a colazione. Il momento migliore per fare scorta di cibo è la mattina, a colazione, quando il metabolismo è più carico di energia. Se vuoi fare un pasto ricco è proprio questo il momento giusto per concedertelo. Il tuo breakfast dovrà comprendere delle proteine, animali o vegetali, che attivano la sintesi della diponectina, una proteina prodotta dal tessuto adiposo che è coinvolta, fra l'altro, nella regolazione del metabolismo dei lipidi e in quella del glucosio, che danno il via all'eliminazione dei grassi tramite l'attivazione della massa muscolare. Quindi per esempio prevedi nel primo pasto della giornata 20 grammi di frutta secca o delle fettine di avocado, uno yogurt naturale, due fette di salmone selvaggio affumicato oppure un uovo e una porzione di carboidrati integrali, una o due fette di pane nero, 40 grammi di cereali integrali eccetera. Due rimedi per due problemi comuni. Il CLA se accumuli soprattutto sulla pancia. Il CLA, acido linoleico coniugato, è una sostanza che aiuta a perdere peso, riequilibra il rapporto tra massa magra e massa grassa e protegge i muscoli, tonificandoli. Le migliori fonti naturali per ottenere l'acido linoleico sono la carne rossa e i formaggi. Per questo, è molto difficile assumere questa sostanza regolarmente senza evitare di compromettere la dieta dal punto di vista calorico. Ecco perché integrare la dieta con il CLA può rivelarsi utile. La dose giornaliera è in media di 3 grammi, ma può arrivare a 6 per gli sportivi, da abbinare a una dieta corretta. Secondo alcuni studi basterebbero 3 grammi al giorno per perdere circa 0,09 kg di massa grassa alla settimana. Il Coleus forscoli se l'ago della bilancia è bloccato. Quest'erba aromatica di origine indiana, già utilizzata dalla medicina ayurvedica per curare i disturbi del circolo, ha trovato una nuova applicazione come coadiuvante nella perdita di peso, soprattutto quando questo è localizzato. L'agente attivo è la forscolina, che favorisce la lipolisi, ovvero lo scioglimento del grasso immagazzinato nel tessuto adiposo, stimolando la concentrazione dell'adenosina monofosfato ciclico, un mediatore della trasmissione dei messaggi ormonali alle cellule. La dose consigliata è di 1 o 2 capsule al giorno a stomaco vuoto. Va evitato in gravidanza oppure se si hanno problemi di tipo ormonale. I nutrienti da non farti mancare. Vitamina D, nei pesci grassi, salmone, tonno, sardine, e nel tuorlo delle uova. Calcio, in latticini, acque bicarbonato calciche, crucifere, broccoli, broccoletti, cavoli, cavolfiore, legumi secchi, frutta oleosa, in particolare mandorle. Fitormoni, noci e semi oleosi. Bioflavonoidi, intervengono favorendo la sintesi del collagene, utile per l'integrità della pelle. Sono contenuti in mirtilli, rosa canina, e siccata viene usata per infusi, uva, ciliegie e agrumi.